Aumentano le guarigioni a Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera, infatti, si registrano 16 nuovi guariti, a fronte di tre nuovi casi di positività. Muta così il bilancio della 542esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 9, totale in isolamento domiciliare 63, totali guariti dal Covid 6.693, totale decessi 176. Intanto nuova circolare del Ministero della Salute per la somministrazione della terza dose. In sintesi sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi booster di vaccino, come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario a favore delle seguenti categorie, ovvero 80 personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. In un momento successivo, una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti delle professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali, a partire dai soggetti di età superiore a 60 anni o con patologia concomitante, tale da renderli vulnerabili. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, considerate le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, sarà per ora possibile utilizzare come dose booster uno o qualsiasi dei due vaccini autorizzati in Italia, Pfizer e Moderna. La dose booster va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. In linea con quanto evidenziato dal CTS, la strategia di somministrazione di una dose potrà includere anche i soggetti con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti preesistenti, previo parere delle agenzie regolatorie. La strategia di offerta vaccinale, a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale, verrà invece decisa sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento epidemiologico.